Io penso che la nostra squadra è una squadra dove sicuramente bisogna lavorare molto a livello ambientale e aggiungo che sicuramente il primo conto con pochi minuti è arrivato come un macigno e da lì ci ha bloccato. Poi se troviamo il pareggio sullo schema su calcio d'angolo può cambiare la partita, invece poi è subito il secondo gol e è andato tutto in salita. Credo che sia il problema di questa squadra, anche se i primi minuti probabilmente non eravamo in partita perché non possiamo subire un gol di questo genere qua e questo poi ti penalizza. Ti penalizza, è considerato anche che facciamo fatica a sviluppare e ad arrivare a chiudere le situazioni che si creano. La fase difensiva deve fare tutta la squadra, non la può solo fare la difesa, ma deve fare la difesa, il centrocampo e l'attacco. Se viene a mancare qualcosa di questi tre reparti è chiaro che poi le difficoltà aumentano e sembra che i difensori facciano fatica. Non è il problema della squadra. Per fortuna che pochi giorni, ragazzi bisogna parlare, bisogna rialzare la testa e lavorare. Migliorare dove si sono commessi questi errori cercando di limitarli e andando avanti di toglierli. Grazie.